il rumore è uno dei problemi congenti della vita urbana l'uomo deve farci i conti da quando vive in città principalmente a causa del traffico ma anche per le attività industriali che fino a pochi decenni fa si svolgevano entro i confini cittadini e in qualche caso vi si svolgono ancora oggi come nel caso macroscopico del porto di genova decine di testimonianze di inquinamento acustico si trovano già negli scrittori latini che descrivono la vita quotidiana della roma imperiale molti dei commentari scrittori che raccontavano la vita quotidiana nella roma antica si parla di disturbo dal rumore e se ne parla negli stessi termini in cui poi se ne parla se ne è parlato nel secolo scorso in quelle che sono state le prime esperienze di mappatura che sono state fatte nella città di New York negli anni 20 del secolo scorso e se ne parla negli stessi termini che poi ritroviamo oggi quando andiamo a analizzare i diversi contributi all'inquinamento acustico derivanti dalle varie sorgenti la sorgente principale rimane il traffico come ricordato da luzzi il primo piano antirumore organico fu predisposto a New York negli anni 20 e fu il frutto di un lungo lavoro di indagine e rilievo delle fonti di inquinamento acustico venne pronto nel 1929 anno fatale per l'america che precipitò in problemi più urgenti e non ne fece nulla ma il problema del rumore ovviamente è più attuale che mai anzi è accresciuto dalla crescente urbanizzazione della popolazione del pianeta che riguarda anche la vecchia europa la commissione europea ha lanciato nel 2010 il programma nadia acronimo di noise abatmen actions a cui la provincia di genova ha aderito con un progetto messo a punto con altri enti locali e finanziato dall'europa con ben due milioni di euro vorrei ricordare che i progetti dell'unione europea le iniziative in materia di rumore sono estremamente rare noi come provincia di genova avendo all'interno delle competenze di rilievo abbiamo colto proprio quest'occasione di questo progetto life e sia abbiamo ottenuto un finanziamento di rilievo perché complessivamente questo progetto life tra la provincia di genova e i partner vede un trasferimento di oltre 2 milioni di euro da parte dell'unione europea dopo quattro anni di lavoro il progetto si è concluso con risultati significativi che sono stati presentati in un evento finale al muvita di arenzano che cosa è stato fatto in estrema sintesi i quattro enti locali partner province di genova e savona e comuni di vicenza e prato in collaborazione col centro universitario ciriaf di perugia hanno fatto una mappatura del rumore sui loro territori per individuare le situazioni più critiche le pubbliche amministrazioni hanno spesso risorse limitate per fare i risanamenti perché il problema dell'inquinamento acustico è estremamente diffuso e quindi sarebbero spesso da risanare porzioni di territorio molto estese allora sulla base della costo dell'intervento della sua efficacia dell'entità della popolazione interessata dall'intervento abbiamo messo a punto un indicatore che consente di distribuire in maniera adeguata queste risorse è evidente che l'indicatore da diciamo come prioritari interventi nelle aree scolastiche da dove ci sono appunto superamenti significativi e una popolazione in età giovanile che è particolarmente da tutelare sono poi stati redatti dei piani d'azione che prevedono diverse misure quando operiamo in ambito urbano possono essere molto efficaci anche gli asfalti fonoassorbenti oppure le misure che sono le meno postose alcuni casi le più risolutive una diversa regolamentazione del traffico in termini di flussi separazione dei flussi il traffico pesante separato dal traffico leggero oppure dissuasori e limitatori di velocità perché ridurre la velocità dei mezzi ha un impatto significativo sui livello dei decibel una volta fatti i piani d'azione sono stati fatti alcuni interventi dimostrativi e se ne è misurato il beneficio fra gli interventi realizzati dalla provincia di Genova la posa di 500 metri di asfalto fonoassorbente sulle provinciali 225 di Neirone e 333 di Avegno e un'intensa attività educational sia verso i ragazzi delle scuole sia verso gli amministratori pubblici per quanto riguarda l'aspetto educativo sono state coinvolte numerose scuole in tutte le aree di progetto sia tramite le classiche lezioni frontali sia anche tramite aspetti molto interattivi con l'utilizzo di strumento fonometrico direttamente aperto agli studenti da quantificare il rumore e anche da prendere competenze di tipo trasversale sulle misure sulla lettura delle carte tematiche dal punto di vista anche della formazione sono stati coinvolti anche tecnici del settore pubblico approfondendo e dando informazioni sulla normativa e anche sulla tecnica per quanto riguarda il controllo del rumore ambientale ma il principale intervento realizzato dalla provincia di genova è stato l'isolamento acustico di un asilo nido a roncoscrivia proprio a ridosso della provinciale 35 con barriere fono assorbenti sul perimetro del giardino e serramenti isolanti angela olivieri lei ha visto praticamente nascere questo asilo quindi conosce tutta la storia ecco l'intervento che è stato fatto che abbiamo qui alle nostre spalle ha cambiato le cose si ha cambiato decisamente le cose è stato fatto un lavoro molto bello sia dal punto di della sonorizzazione e sia anche come come il giardino come era stato strutturato 30 anni fa adesso abbiamo un giardino effettivamente molto molto bello e anche non pericoloso per i bambini siamo molto contente anche come sono stati eseguiti i lavori come sono stati con molta rapidità e siamo più che soddisfatte noi le misurazioni eseguite dopo l'intervento ad altezza standard dicono che rispetto alle stesse misurazioni effettuate fronte strada sia un abbattimento di 10 decibel effettuate ad altezza non convenzionale quindi ad altezza bambino tali riduzioni sono ancora maggiori quindi effettivamente si si ottiene per questa per quest'area giochi un clima acustico decisamente più compatibile con la sua destinazione d'uso diciamo che la collaborazione con la provincia ci ha permesso di integrare il progetto pilota con un intervento che avevamo di completamento di regolamento della struttura questo ci ha permesso di mettere insieme le risorse realizzare un intervento che è diventato organico e come dire per come si può vedere sicuramente premia quelle che erano le aspettative e i risultati